Musica Abbiamo lasciato la città di Hanoi e ci portiamo verso la baia di Along Durante il tragitto incontriamo un laboratorio dove si disegnano con la seta degli stupendi quadri e anche arazzi Musica Eseguire disegni con la seta, una vera e propria arte E dopo 4 ore di macchina, eccoci arrivati alla baia di Along Musica E questa è la giunca che ci porterà a visitare la baia Il suo nome è Afrodite Musica 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 E questi sono i membri dell'equipaggio che aglieteranno la nostra mini crociera Musica 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 Ed eccoci arrivati all'ora di pranzo Musica 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 Ivan che sta usando le bacchette e baci 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 e subito dopo pranzo andiamo a visitare la grotta di Sunshot Cave e baci ed eccoci arrivati all'interno della grotta e buonanese e buonanese e buonanese e buonanese Sì, c'è una camera enorme, non è vero, 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 è vero. Sì, c'è una camera enorme, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Grazie. E' vero, è vero, è vero. E' 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 vero. Grazie a tutti Con questa splendida luna e con il tentativo di pesca sotto le stelle si chiude la serata e anche questa prima parte dedicata alla baia di Alon A breve la seconda parte Grazie a tutti